Brillano le 5 stelle dell'avvocato Leonardo De Matteis in una notte dal sapore unico. E' lui il nuovo sindaco di Alberona. Vittoria decisamente larga sui due schieramenti opposti, 343 preferenze per una percentuale del 46,4% a fronte dei 211 ottenuti dall'ormai ex primo cittadino Tonino Fucci e dei 191 di Pina De Matteis. Se non è un plebiscito poco ci manca considerando l'insolita corsa a tre. L'avvocato, 57 anni, torna dunque in municipio ma con la fascia da sindaco. Introppi ad Alberona lo hanno voluto lì. E' emozione sicuramente inaspettata perché voi sapete che qui ad Alberona forse dopo tanti anni si erano creati addirittura tre gruppi per cui era difficile anche delle previsioni. Evidentemente un successo di questo genere certamente significa che la gente ha riposto in me e nella mia squadra la sua fiducia facendo riferimento soprattutto alle esperienze del passato. e quindi noi speriamo di poter ripercorrere il passato che significa il professore Arturo Petti il passato che significa il dottor Forgione Giambattista e adesso il popolo di Alberona ha voluto nella mia persona il suo rappresentante istituzionale. Alle urne si sono recati 759 elettori, il 3% in meno rispetto a 5 anni fa quando venne eletto Tonino Fucci. Oggi la popolazione dopo 5 anni di limbo e risultati non proprio brillanti ha deciso di scegliere ancora una volta il gruppo storico che tra i suoi nomi può vantare anche quello del dottor Giambattista Forgione primo eletto di Alberona 5 Stelle e già sindaco del Borgo nel decennio che ha segnato la svolta. Ottimi risultati anche per il neoconsigliere Antonio Ricciardi uno dei più giovani candidati della storia di Alberona. Il 24enne ha ottenuto ben 42 preferenze ed è stato il terzo migliore eletto nel gruppo dell'Avvocato dopo Forgione e Codirenzi. I festeggiamenti sono partiti intorno all'1.30 di notte occhi lucidi nel volto dell'Avvocato da sempre punto di riferimento per giovani ed adulti data la sua presenza nel sociale e in tutte le attività del Borgo. Ha voluto ringraziare tutti i suoi elettori promettendo, come lui stesso ama dire, di far tornare Alberona a sorridere. In realtà Alberona era un paese che sorrideva già fino a qualche anno fa poi diciamo che questo sorriso un po' l'ho perso adesso bisogna riportarlo attraverso ovviamente tutta una serie di programmazioni turistiche abbiamo in mente di aprire la struttura sanitaria abbiamo in mente gli insediamenti in zona artigianale ovvero tutte quelle realtà che possono spronare anche l'occupazione giovanile soprattutto. Il gruppo dell'Avvocato ha guadagnato ben sette seggi eletti anche due consiglieri di Vivi Alberona, il gruppo dell'ex sindaco Fucci e uno per Cambiamo Alberona di Pina De Matteis.